Una realtà aziendale in Pagani a Grovo, quanto mai interessante, che si propone e propone momenti di alta professionalità, con incontri con chef e grandi professionisti della pasticceria. L'altro giorno è stato il momento di Alexander Sanchez, che ha proposto alle centinaia di persone convenute, creazioni artistiche e artigianali di dolcissimo impatto per gli occhi e per il palato. Grazie a Puratos, abbiamo avuto un altro risconto anche molto notevolmente. Mi scuso con molti pasticceri che dovevano venire, purtroppo non ho avuto più spazio, però io gli ho promesso che Sanchez verrà un'altra volta, come maggio e giugno, abbiamo due campioni mondiali per il kick design e anche un'altra dimostrazione per il torto modello. Oggi a Pagani abbiamo portato la primavera, con i fiori di Sanchez a Pagani c'è la loro dolcita dalla primavera. Ringrazio a Puratos, stiamo avendo veramente il bello discorso. Un'altra cosa che è stata positiva di questa giornata è che l'80% di questi clienti che sono venuti ad oggi sono tutti grandi nuovi. Sono Alessandro Sanchez, vengo da Costa Rica ed è da oltre 23 anni che faccio la pasticceria e da 15 anni invece sono nel gruppo Puratos. Sono venuto qua in Italia per mostrare questo prodotto, questa crema vegetale, il suo nome è Ambiente. Con questa panna riusciamo a creare qualsiasi tipo di scultura, opera d'arte e quello che comunque riesce la vostra immaginazione a creare è possibile farlo con questa crema.